l'unica moca al mondo per fare l'infuso per fare il tradizionale caffè come facciamo per fare il tradizionale caffè abbiamo il solito filtro a imbuto mettiamo l'acqua il filtro imbuto il caffè e facciamo il tradizionale caffè mentre per fare l'infuso mettiamo l'infuso direttamente nel serbatoio uno o due cucchiai come si decide poi mettiamo l'acqua all'altezza fino al bordo superiore di qua l'acqua fredda mi raccomando inseriamo il filtro brevettato con disco argentato per la purificazione dell'acqua lo inseriamo così chiudiamo la moca nel tradizionale modo la mettiamo su qualsiasi ponte di calore gas piastra elettrica o induzione che sia quando sentiamo il classico gorgoglio glug 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 spegniamo il gas o qualsiasi ponte di calore dove l'abbiamo messa e la versiamo nelle tazze o nel contenitore abbiamo deciso differenza della solita cottura che si fa usualmente diciamo qual è la differenza abbiamo abbiamo un prodotto migliore perché abbiamo creato una pressione interna per una migliore sfruttamento delle erbe che abbiamo messo possiamo mettere anche le erbe a taglio grosso che sono sempre le più buone è eccezionale per il tè verde tè verde che sarebbe consigliato per qualsiasi persona una tazza al giorno inoltre facciamo il l'orzo non caffè d'orzo perché non è non è giusto il termine ma l'orzo mettiamo l'orzo qua dentro come abbiamo spiegato per l'infuso l'acqua fredda facciamo come abbiamo detto per fare l'infuso e abbiamo un orzo di una qualità superiore il prodotto dove lo vedete cioè le erbe da dove arrivano ma abbiamo il tè verde certamente lo prendiamo su in trentino abbiamo una piccola produzione nostra su in valle dicembra e poi compriamo i vari lotti e facciamo le miscelazioni per fare i 25 prodotti che proponiamo inoltre la moca viene viene proposta con la finitura in cinque colori il colore nero il colore rosso antico il colore arancione di colore bianco e verde si presenta in questa confezione dove contiene un vasetto di tè verde era un po la volta era un posto di per un costo di soli 69 euro bellissima anche come design per quante persone si può fare il contenuto di mezzo litro oggi è in offerta lancio a sole 59 euro invece che 69 in vendita solamente nel nostro negozio alla vis in valle dicembra e tramite online sul sito www.trentinoerbe.it venite comprate e sarete felici